Oggi parliamo di New York Comic Con Ho capito bene? Sì? Ho letto bene il titolo? New York Comic Con, un video completamente dedicato a questa particolarissima fiera che si svolge ovviamente a New York e che se avete gusti simili ai miei se siete iscritti qui al canale credo proprio che vi piacerà un bel po'. Se mi seguite sui miei social sapete che a inizio ottobre sono stato proprio a New York per il New York Comic Con e anche per altro. Questo è il terzo di tre video completamente dedicati appunto al mio viaggio a New York. Se vi interessa New York in generale, come immagino vi interesse visto che vi interessa il Comic Con vi consiglio di recuperare per prima cosa, se non l'avete già visto ovviamente lo scorso video in cui vi racconto e vi spiego un po' come è cambiata New York negli scorsi anni quali sono insomma le cose da tenere a mente prima di partire. Se invece siete già in pari l'unica cosa che mi resta da fare prima di andare di su per raccontarvi del New York Comic Con è parlarvi del nostro sponsor del canale NordVPN. Allora per prima cosa voglio assolutamente ringraziare NordVPN per il supporto che ha dato al mio canale. Non era per niente scontato, il mio è un canale assolutamente di nicchia e quindi grazie mille NordVPN per il supporto e anche grazie a loro che sono riuscito ad andare a New York e che sono riuscito a portarvi diversi contenuti e spero in futuro vi porterò altri contenuti simili in giro per il mondo. Detto questo non mi resta che parlarvi ancora di NordVPN, questa VPN che però ha molto di più, ho cercato negli scorsi video di raccontarvi proprio gli aspetti meno VPN di NordVPN perché secondo me sono i più interessanti. È chiaro che se vi abbonate a una VPN cercate quei particolari servizi di geolocalizzazione e di virtualizzazione in giro per il mondo e quelli chiaramente ci sono, funzionano bene, sono i migliori, sono basati su migliaia di server in giro per decine di nazioni per tutto quanto il mondo. Quelli funzionano benissimo e sono proprio la base su cui si fonda NordVPN, ma non ci sono solamente quelli lì. Come vi ho detto nello scorso video c'è per esempio tutto quanto un layer di protezione sulla connessione che riguarda anche la protezione da per esempio siti che potrebbero contenere malware, banner e advertising che potrebbe contenere malware, una specie di antivirus, anti-malware completamente integrato nella vostra connessione internet, un aspetto davvero molto comodo di questo servizio, incluso gratuitamente. E poi ci sono tutti quanti gli altri usi, chiamiamoli così, accessori particolari, saltuari che si possono fare di un servizio come quello di NordVPN per l'acquisto di bene servizi virtualizzandosi in altri stati in cui costano meno o in cui non sarebbero disponibili, per la visione di contenuti da per esempio cataloghi streaming che mentre siete in Italia vi mostrano il catalogo italiano ma poi giustamente quando siete all'estero non potete più vederlo, se volete venire a vederlo con NordVPN lo potete fare molto semplicemente. È in corso il Black Friday di NordVPN quindi veramente non avete più scuse, andate al link qui in sovrimpressione che è linkato anche in descrizione e nel primo commento bloccato nordvpn.com.itomi. C'è un'offerta particolare ora per il Black Friday che vi invito assolutamente di andare a valutare, c'è sempre la prova 30 giorni soddisfatti o rimborsati per cui veramente non avete nessuna scusa. Grazie ancora a NordVPN per il supporto, voi correte appena finito il video a vedere il link per verificare se l'offerta fa al caso vostro e anche per verificare tutte quante le caratteristiche di questo particolarissimo servizio e noi andiamo di sopra e continuiamo il video. Ma hai cambiato la maglietta! NordVPN per il ca... Allora New York Comic Con l'abbiamo detto, parliamo del New York Comic Con, molto bene. Allora ci sono mille argomenti, ho diversi appunti perché ci sono tante cose da dire ma non voglio neanche fare un video da un'ora ovviamente e faccio come al solito scorrere qui di fianco a me le mie storie o i video sopra di me in quel caso così vedete più o meno come si svolge la faccenda. Allora il New York Comic Con si svolge ogni anno la prima settimana, anche il primo weekend di ottobre. La cosa è molto bella perché proprio quella settimana lì o comunque quel periodo diciamo tra metà settembre e metà ottobre è secondo me il periodo migliore per andare a New York. Ce ne sono altri ovviamente molto belli in primavera eccetera però l'autunno a New York come si dice, anzi il primo, il pre-autunno mettiamola così, è per me eccezionale perché non è super caldo, si sta in maglietta tranquillamente durante la giornata salvo diciamo sfighe particolari. la sera invece è bello freschello con felpa e giubbottino leggero tipo cawei, cioè giacca vento voglio dire e quindi per me il clima è ideale, non c'è troppissima gente in giro perché non è altissima stagione da un certo punto di vista e in più c'è il New York Comic Con. quindi quello è il periodo in cui io vado a New York di solito tutti gli anni o quasi ci provo insomma. Quindi il periodo è ottimo, il New York Comic Con esiste dal 2010 e ogni anno fanno questa manifestazione che si ispira un po' ai grandi Comic Con internazionali, in particolare chiaramente al Comic Con di San Diego che ha un po' iniziato un po' tutta la faccenda ma che poi dopo come format è stato replicato un po' di tutto quanto il mondo in tutte quante le grandi città, quello di New York è partito un po' in sordina devo dire ma negli anni è diventato uno dei più bei Comic Con al mondo per me il più bello, ma questa è una mia opinione ovviamente, c'è sempre questa diatriba è il più bello San Diego, il più bello New York o sono più belli altri? Per me il più bello al mondo è New York per diversi motivi, il principale dei quali è che il New York Comic Con si fa a New York il San Diego Comic Con si fa a Cesenatico, come dico ogni volta per farvi capire che New York è una città che offre mille altre robe queste sono fiere che, visto un giorno, insomma, non è come Luca, dopo ne parlo è una roba che il Comic Con di New York, ma anche quello di San Diego è una con da un giorno, massimo due giorni forse, ma in un giorno la visiti tutta a meno che tu non voglia proprio andare a beccare quei particolari panel per cui ti ritrovi che vai un giorno intero unicamente per vedere un panel per il resto non c'è tutta questa roba per la quale si riescono a fare due, tre, quattro, cinque giorni di fila non è così, però una volta che si va a New York chiaramente si rimane almeno una settimana per almeno 4-5 giorni e quindi, oltre alla giornata o alle due giornate al Comic Con ha molto senso farsi un bel giro a New York e se siete a San Diego per il San Diego Comic Con è anche vero che potete prendere, insomma potete spostarvi, andare a Los Angeles o farvi un giro di San Diego adesso c'è anche il nuovo museo, ma di questo magari ne parleremo in un video dedicato a San Diego Comic Con in ogni caso, New York Comic Con, perfetto, perché è in una delle città più belle del mondo è organizzato da Paura, da ReadPop, che è questa megacorp, megacorporation che organizza le più belle fiere al mondo, secondo me, ovviamente, è mia opinione più anche mille altre attività, comunque è, tra l'altro, ecco, questo invece voglio dirlo attività che riguardano anche il web, perché lo dico? perché una delle più belle cose del New York Comic Con e delle altre fiere organizzate da ReadPop è come è organizzato tutto il prefiera e tutta la parte web della fiera che è fatta molto molto bene ok, il periodo l'ho detto, come si fa ad andare al New York Comic Con? si compra un biglietto, ovviamente, ma è meno scontato di quello che pensiate anche se è molto più semplice e immediato rispetto ad altri Comic Con tipo San Diego dove è impossibile andare comunque, verso maggio-giugno, ogni anno cambia, proprio verso maggio-giugno vengono aperte le vendite dei biglietti per l'edizione di quell'anno per prima cosa accedono i superfan che sono, diciamo, quelli che hanno già fatto le edizioni precedenti quindi giustamente ReadPop gli dà la precedenza in più c'è anche una fan verification di cui adesso parlo poi tipo la settimana dopo c'è accesso per i fan verificati adesso vedo cosa vuol dire e poi la settimana dopo ancora per tutti quanti non aspettatevi che vada tutto quanto sold out in una settimana perché non è così o perlomeno quest'anno che era il grande, diciamo, no cioè dopo due anni di pandemia quest'anno è stata poi una edizione tosta un po' come quella del 2019, insomma, con tanta gente e i singoli giorni erano ancora disponibili fino a un mese prima della fiera mentre invece gli abbonamenti se ne vanno in fretta quelli che per intendersi comprendono più giorni però è importante andare e, diciamo, verificarsi il prima possibile cosa vuol dire verificarsi? semplicemente ReadPop ha messo in piedi questo sistema online sul sito degli New York Comic Con che permette una verifica dell'utente per evitare i bot fondamentalmente dopo loro la mascherano da vogliamo vedere quanto sei nerd ci sono delle domande legate alla cultura pop legate alla cultura nerd e voi dovete rispondere se rispondete correttamente avete il vostro profilo verificato e con quello avete diversi vantaggi rispetto a chi non fa questa roba qua va fatta vi da appunto l'accesso alle prevenite prima vi darà poi l'accesso alla reservations che sono una roba molto intelligente che hanno fatto dall'anno scorso insomma, quindi dovete essere fan verificati andate sul sito vi registrate verificate l'account a questo punto siete pronti per la prossima edizione quindi aspettate verso maggio quando apriranno le prevenite e comprate il vostro biglietto il biglietto vi arriva direttamente a casa è un biglietto con RFID adesso qui vedete quello stampa ma è uguale Thursday, Friday, Saturday eccetera e cambiano le grafiche però è un bel biglietto così in plastica con dentro un RFID sul retro vedete che ci sono dei codici questo è già stato attivato la prima cosa che dovete fare quando vi arriverà poi il biglietto verso agosto mi è arrivato settembre vi arriva a casa dovete attivarlo online inserendo questi codici da quel momento avete il biglietto valido attivo e potete partecipare alla fiera ma ancora prima alle reservation ci arrivo quanto costa il biglietto? non l'ho ancora detto allora costa un giorno non poco eh preparatevi un giorno costa 65 dollari più le spedizioni eccetera eccetera arrivate quasi a 100 dollari potreste scegliere di non farvelo spedire a casa per risparmiare e di ritirarlo una volta arrivati a New York lì in fiera cambia poco io me lo sono sempre fatto spedire per essere sicuro di averlo prima e di essere tranquillo quando arrivo là io non devo fare la fila per quelli che si devono far attivare il biglietto poi fate come vi pare poi ci sono gli abbonamenti per esempio il 4 days che comprende tutti i quattro giorni della fiera non ve l'ho detto ma è giovedì venerdì sabato e domenica sempre quattro giorni dura il New York Comic Con l'abbonamento per tutti i quattro giorni costa 210 dollari vi sto dicendo i prezzi del 2022 non so se poi il prossimo anno aumenteranno o caleranno e poi c'è ci sono i biglietti speciali che comunque vanno isolati sempre istantaneamente sono pochissimi sono i biglietti VIP e costano 500 dollari questa è una roba tipica americana c'è per esempio anche la Star Wars Celebration JD Master come si chiama c'è in diverse cose americane in cui se spendi tanto hai l'accesso VIP che cos'è l'accesso VIP? è forse l'unico modo di godersi completamente i panel principali perché hai un posto riservato nei panel principali e l'accesso a tutti quanti i panel sempre però 500 dollari mi sembra veramente eccessivo però dopo quando vi spiegherò come funzionano i panel capirete perché ha senso può avere senso per qualcuno quel tipo di biglietto super costoso questi sono i biglietti diciamo poco prima dell'inizio della manifestazione diciamo a fine settembre quest'anno era me lo sono scritto quando erano le reservation quest'anno era il 29 settembre si me lo sono scritto quindi il 29 settembre si aprono le reservation cosa sono le reservation? è chiaro che parliamo di una convention con dei panel molto interessanti magari molto particolari ha due hall principali che sono il main stage e l'empire stage ognuno da 3500 posti che non sono pochi ma chiaramente in una giornata in cui ci sono 50-60 mila persone dentro capirete che non tutti possono avere accesso a certi panel parlo ovviamente di panel di presentazione di film famosi di serie famose di fumetti o giochi particolarmente famosi con ospiti d'eccezione quest'anno mi viene in mente la reunion di Back to the Future con Michael J. Fox o che ne so cosa hanno fatto insomma hanno fatto diverse presentazioni in cui insomma molti compreso me volevano andare e è un po' quello che succede nella all age nella all h del San Diego comic in cui nessuno riesce ad entrare e ci sono le più grandi presentazioni di film Marvel eccetera fino al 2020 che non si è fatto fino al 2019 funzionava a estrazione quindi diciamo chi voleva partecipare a un particolare panel si iscriveva a una specie di lotteria e poteva o meno essere estratto e quindi partecipare a quel panel ti potevi iscrivere a tutti quanti i panel in questa maniera e poi puntare su avere culo oppure no questa cosa è stata cambiata dall'anno scorso ma è quest'anno che è entrata diciamo in vigore per bene con un evento in presenza che l'anno scorso ha fatto una roba un po' una via di mezzo e come funzionava? funzionava che il 29 settembre nel nostro caso alle 7 di sera per gli orari americani era tipo la mattina si aprivano le reservation con tutta una serie di diciamo regole potevi prenotare first com first served per cui il primo che arriva prenota gli altri affari loro ovviamente vi avvisano prima via email eccetera potevi prenotare un tot numero di panel giustamente non sovrapposti tra loro perché non puoi prenotare due panel che sono in contemporanea chiaramente e un numero massimo per ogni giornata quindi mi sembra che fosse tipo quattro il giovedì cinque il venerdì eccetera eccetera e in quella maniera lì semplicemente sapevi fin da subito se avresti o no partecipato ai panel arriva istantaneamente un bel plico con tutti i QR code i biglietti per i singoli panel benone ma non solo i panel si prenota in questa maniera si prenota anche per esempio l'accesso a stand particolari come lo stand Funko che è sempre blindato e quindi fino a due anni fa si andava per estrazione per comprare le esclusive Funko da quest'anno dall'anno scorso ma quest'anno diciamo in pieno effetto come si dice invece si usano le reservation per cui si accedeva e si comprava e si andava a dire si voglio comprare questa esclusiva quest'altra esclusiva eccetera ma anche il merchandising sullo shop si poteva prenotare in questa maniera qua il firmacopie i selfie le foto opportunities i meet and greet eccetera eccetera cioè tutte le cose in questo caso praticamente americane si potevano prenotare già da prima sul nel in questo mini portale dedicato alle reservation che è stato fatto che mi sembra molto intelligente almeno perlomeno ancora prima di partire sai se farai o meno alcune cose oppure no tutti i biglietti del panel di tutti i panel vengono assegnati in questa maniera prima si se ne assegnavano 50 con la lotteria e 50 erano lasciati liberi per lasciar fare le file dentro la fiera che era una merda quindi tutti i biglietti vengono assegnati in questa maniera qua quindi occhio perché le reservation online prima della fiera sono fondamentali per riuscire a entrare in tutti quanti i panel per le empire stage per il main stage ovviamente è possibile mettersi comunque in fila lì in presenza perché non tutti quelli che hanno prenotato ovviamente si presentano effettivamente quindi ci sono dei posti però in questa maniera si evitano per prima cosa si evitano le file della morte del San Diego Comicon di gente che si mette tutt'ora in fila il giorno prima per assistere al panel Marvel cosa che si faceva anche a New York fino a 3-4 anni fa e in più insomma è tutto un po' più organizzato poi è chiaro che alla fine c'è sempre qualcuno che si lamenta che non i posti sono 3.500 le persone sono 50.000 quindi è ovvio che non tutti possono andare a vedere il panel di Michael J. Fox o di Return al Futuro per intenderci o di quello che è o del Signore degli Anelli o di Netflix che presenta le nuove serie bla 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 però mi sembra come soluzione che abbia funzionato abbastanza bene io ovviamente mi sono scordato sono arrivato dopo ero già tutto quanto preso ho preso alcune cose altre cose no però ho sbagliato io che non mi sono collegato era anche un'ora per una volta comoda per l'Italia le 19 e non in piena notte questo è il pre-convention chiaramente quindi diciamo una settimana prima avrete già il vostro biglietto in mano perché ve l'ho spedito a casa avrete già tutte quante le vostre reservation per il panel e gli eventi speciali e gli acquisti speciali e sarete pronti a partire a quel punto partite per New York insomma arrivate a New York dove si tiene il New York Comic Con si tiene dentro allo Javits Center che è uno dei centri filistici più belli esteticamente dico proprio che io abbia mai visto tutto quanto fatto a vetro è incredibile è bellissimo molto grande e tra l'altro ampliato proprio non so da quando credo l'anno scorso perché io non andavo da due anni l'ho ritrovato ampliato c'è tutto un nuovo enorme edificio che comprende i nuovi teatri chiamiamolo così o comunque i posti in cui fare i panel sia i panel minori che una volta ci facevano sottoterra ma nascosti sia i panel principali che appunto vengono fatti in quello che viene chiamato Empire Stage e in quello che viene chiamato Main Stage sono adesso in una nuova ala dello Javits Center molto bella molto grande molto ben organizzata in questo modo hanno diviso per bene anche proprio sono edifici differenti sono collegati poi internamente non te ne accorgi neanche però sono proprio diciamo zone differenti della convention dedicata ai panel oppure dedicate al resto che altro c'è dentro al New York Comic Con oltre a panel eccetera c'è ovviamente tutta una gigantesca area showcase in cui i principali diciamo player della cultura pop mostrano le nuove uscite o le cose che vogliono mostrare chiaramente quando dico principali player si spazia tantissimo c'è Crunchyroll che mostra i suoi servizi di streaming di fianco c'è Funko che fa le esclusive di action figure di fianco ancora ci sono i grandi player dedicati al fumetto Marvel DC eccetera manga tutte quante la parte manga eccetera anime eccetera eccetera giocattoli tantissimi giocattoli a New York quindi sia action figure art toys toys normali eccetera eccetera lego playmobil e compagnia cantante e quindi bellissimo la parte showcase veramente molto bella tra le più belle al mondo in più c'è tutta un'area market gigantesca aperta a piccoli grandi negozi di New York ma non solo ovviamente dove è possibile trovare davvero di tutto in particolare roba vintage è l'area che mi piace di più in assoluto per ovvi motivi e quindi troverete non so gli anni 80 piuttosto che stampe di artisti e di disegnatori che hanno il loro micro stand o che ne so dadi per il gioco di ruolo o giochi da tavolo insomma un po' di tutto quindi è probabilmente anzi è sempre probabilmente direi che è il market più bello al mondo dedicato alla cultura pop se la gioca un po' con la gamescom di Colonia e con poco altro direi e con Luca Comics ma Luca Comics è molto diciamo le aree market sono sparse per la città invece qui stiamo parlando di un'unica area gigantesca in cui ci sono che ne so non so quante saranno centinaia di diversi negozi che vendono di tutto dall'abbigliamento ai giocattoli eccetera eccetera oltre a questo c'è l'artist alley in cui diversi artisti appunto in particolare solitamente illustratori e disegnatori ma anche altre figure sono diciamo espongono neanche espongono come dire la classica artist alley per cui tu ci cammini attraverso e puoi farti o firmare cose loro o farti un selfie o comprare al volo opere particolari magari autoprodotte o comunque prodotte con altre case editrici ma diciamo legate a quel particolare artista poi c'è tutta l'area dedicata al meet and greet con le celebrities questa è una roba prettamente americana che in Italia non si fa non lo fa nessuna fiera ha provato una volta a farla al Milan Comic Con quando c'è stato ma non è esattamente una roba che che noi capiamo cos'è il meet and greet semplicemente tu ti prenoti tra l'altro anche questo si fa con il meccanismo di reservation di cui vi parlavo prima ti prenoti e puoi andare da una celebrità che è presente in fiera e farti un selfie pagando o farti fare un autografo su una foto pagando neanche poco pagando 30 40 50 euro per una foto o per un autografo e allora ripeto che per la cultura americana per gli americani è normalissima tra l'altro molti attori che magari non lavorano più insomma non dico che campano con sta cosa qua però insomma è un buon è un buon modo di arrotondare per cui tu semplicemente prenoti una fascia oraria e poi ti presenti lì c'è lì la celebrity e ti fai la foto con lui o compri l'autografo su una foto firmata che altro c'è? novità di quest'anno c'erano due o tre aree nuove vabbè c'è tutta l'area dedicata al cosplay quindi c'è Cosplay Central che è diciamo un'area dedicata al cosplay dentro la fiera ma soprattutto c'è il Cosplay Championship il sabato direi che il New York Comic Con insieme a San Diego è il posto migliore in cui vedere bei cosplayer in America intendo perché ovviamente ne abbiamo il grande culo di avere in Italia Luca Comics & Games che è sicuramente il posto migliore al mondo per vedere i più bei cosplayer che ci sono al mondo insomma insieme a qualcosina in Giappone ma veramente poca roba molto meglio Luca Comics a livello mondiale in America direi che il New York Comic Con è il posto migliore insieme a San Diego e a qualcos'altro poi c'era una nuova area gaming piuttosto deserta devo dire stava provando New York a diciamo buttarsi un po' anche sui videogames molto timidamente c'era una una specie di area lamparty classica con 12.000 computer però io l'ho sempre vista che non stava giocando nessuno ovviamente avrò avuto sfiga io comunque lì si giocava e c'era qualcosina legato al videogame ma veramente ancora molto poco poi c'è l'area Pop Asia che è dedicata al Giappone eccetera è un po' come Japantown a Luca Comics per intenderci ma molto più piccola molto più piccola e poi c'è quest'anno c'era anche forse è dell'anno scorso non mi ricordo quando è che l'hanno fatto c'è questo Pride Lounge dedicato LGBTQ eccetera eccetera questo è diciamo il New York Comic Con quindi una gran bella fiera che vi ripeto secondo me si visita in un giorno la domanda classica che mi fanno è quando vado? qual è la giornata migliore? e allora secondo me la giornata migliore è il giovedì il primo giorno perché ci sono ancora tutte le esclusive ovviamente non quelle per cui serve la reservation per cui se non avete la reservation comunque allo stand Funko per intenderci se non siete riusciti a fare la reservation non entrate è vero che a fine giornata aprono lo stand per quelli che non si sono prenotati ma non è rimasto praticamente nulla per cui non contate su quello però ci sono tantissimi altri medi e grandi espositori che invece hanno esclusive e per le quali non serviva una reservation e per cui andare al primo giorno prima che finiscano ha molto senso compreso il grande e bellissimo negozio di merchandising ufficiale del New York Comic Con che ha solitamente delle gran belle cose che finiscono tutto il primo giorno del Comic Con per cui andare giovedì vi consente di comprare almeno quelle cose lì in più c'è poca gente generalmente il giovedì rispetto al sabato non ne parliamo per cui c'è poca gente si gira bene e quindi per me quando devo scegliere io solitamente vado il giovedì e poi ci torno di solito il sabato ma per motivi miei perché voglio vedere i cosplayers eccetera però si potrebbe fare tranquillamente anche solamente il giovedì il sabato è una gran bella giornata perché ci sono le gare cosplay su una valanga di cosplay in giro cosa che invece non è vera per gli altri giorni però è anche vero che insomma è molto affollata come giornata probabilmente la più affollata insieme a domenica la domenica è il giorno peggiore perché la fiera chiude prima non vi ho detto gli orari apre alle 10 chiude alle 19 tranne la domenica chiude alle 17 quindi 2 ore prima chiude alle 5 quindi per me la domenica è il giorno peggiore il venerdì è una buona via di mezzo se magari sono finiti i biglietti del giovedì ha molto senso comprarsi quelli del venerdì o se insomma vi incastrate meglio sul venerdì ha molto senso anche il venerdì praticamente come il giovedì salvo le esclusive che magari finiscono il giovedì e il venerdì poi cos'altro devo dire allora il programma un po' come tutte le grandi fiere arriva sempre all'ultimo momento così come la lista degli ospiti presenti quindi a maggio quando comprerete i biglietti non saprete nulla di quello che si farà in quell'edizione perché il programma viene chiuso a settembre praticamente neanche un mese prima un po' come fa Luca Comics e gli altri e gli ospiti tra l'altro quelli eccellenti quasi mai vengono annunciati tutti quanti per cui anche quest'anno mi sono ritrovato lì in presenza che c'erano dei panel con degli ospiti che sul calendario sul programma non erano stati annunciati per cui aggiungono cose proprio all'ultimo diciamo come aree di interesse se volete farvi un'idea se non ci siete mai stati e volete un po' capire di cosa parla il New York Comic Con le cose principali sono chiaramente comics quindi fumetti ovvio books quindi libri libri fantasy libri di fantascienza autori di ogni tipo molto bello sui piacciono i libri da paura così in parte anche per i giochi da tavola giochi di ruolo ma molto meno e terza cosa entertainment televisivo o streaming non diciamo cinema perché quello solitamente solo ruba tutto quanto San Diego invece a New York arriva quasi sempre la parte streaming in particolare Netflix da un paio d'anni in realtà Prime e gli altri lì presentano le nuove serie in arrivo durante l'autunno fondamentalmente e l'inverno quindi insomma se vi piacciono questi argomenti il New York Comic Con è casa vostra ma in generale se vi piace la cultura pop il New York Comic Con è assolutamente da visitare e io vi invito assolutamente se avete in programma non dico di fare un viaggio apposta per il New York Comic Con ma se avete in programma di andare a New York in autunno cercate di andare la prima settimana di ottobre organizzatevi prima e prendetevi un biglietto per il New York Comic Con giovedì o venerdì va benone come vi spiegavo prima perché è un'esperienza che secondo me ha molto senso fare mentre siete a New York questo è fondamentalmente sicuramente avrete mille domande fatemele nei commenti qui sotto cercherò di rispondere a tutti quanti e buon New York Comic Con a tutti ci vediamo se verrete il prossimo anno nel 2023 io sicuramente vado se venite anche voi fatemelo sapere e ci vediamo a New York se il video vi è piaciuto fate un bel like mi raccomando se non vi siete ancora sui canale iscrivetevi subito cavolo e attivate le notifiche e noi non dovessimo più rivederci buon pomeriggio buonasera e buonotte ciao giovani ciao